in quel medesimo giorno venuta la sera gesù disse ai suoi discepoli passiamo all'altra riva e congedata la folla lo presero con sé così com'era nella barca c'erano anche altre barche con lui ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena egli se ne stava poppa sul cuscino e dormiva allora lo svegliarono e gli dissero maestro non ti importa che siamo perduti si destò minacciò il vento e disse al mare taci calmati il vento cessò e ci fu grande bonaccia poi disse loro perché avete paura non avete ancora fede e furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro che è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono svegliati perché dormi signore destati non ci respingere per sempre perché nascondi il tuo volto dimentichi la nostra miseria e oppressione salvaci per la tua misericordia questi versetti del salmo 43 che abbiamo ascoltato danno degnamente voce ai discepoli sulla barca in mezzo al mare in piena tempesta in questa scena del vangelo cogliamo tutto il dramma le paure la disperazione la tempesta minacciosa crea il panico a questi uomini in affanno spiazzati impauriti non rimane che gettarsi su gesù e svegliarlo dal suo sonno ecco approcciandoci così al vangelo ci viene naturale pensare che qui l'unico personaggio fuori luogo era proprio gesù tentiamo oggi un altro approccio ci lasciamo sorprendere dall'interpretazione della professoressa ivonne dona schlobitten sul dipinto della croix la tempesta ascoltiamolo la prima cosa che noi che normalmente non si trova nei nei scritti nei libri si vede una donna la donna ha un ruolo fondamentale per della croix questa figura qua insegna a noi come guardare l'opera d'arte perché lei guarda questo cristo pieno di luce involto in questo panno bianco ma perché perché dobbiamo guardare lui che sta lì dormendo la cosa affascinante è che l'unico operadate della tempesta che non fa vedere la soluzione perché normalmente si vede la barca si vede cristo che dorme tutti sono disperati e dopo si vede cristo che si alza e benedice normalmente uno operadate a tutto il percorso dall'inizio fino alla fine e della croix ha fatto a posto non ha risolto il problema cosa interessante non ha raffigurato la tempesta ma qui una figura piena di sangue con le mani così indica quasi alla crocifissione e anche qui questa figura molto interessante che era normalmente lui ha fatto tante tante versioni un uomo che dorme abbiamo quasi una una mummia un morto una persona morta involto in questo panno e alla fine abbiamo e questo è tipico iconograficamente la ressurrezione che normalmente cristo con un panno bianco pieno di luce che sta lì dormendo a presto